Allora Stefano, il Teatro dei Venti è stato il primo a ripartire a Modena, si possono fare le prove dall'unico discorso, dall'otto, cosa state facendo? Ora stiamo lavorando artisticamente a un progetto che ci vede aprire il nostro festival Trasparenze a Gombola, in una frazione di Polinago, dal 31 luglio all'otto di agosto. Stiamo lavorando a un nuovo progetto inedito che attraverserà un bosco, i nostri riferimenti sono alcuni miti e questo legame che c'è tra la mitologia e il nostro stare attuale. Questo momento, questa transizione, questo momento di spasiamento che c'è in questo momento che ci rende in qualche modo in una situazione straordinaria di attesa, di scoramento. E questa fase sta per essere, sta per terminare probabilmente, ma nulla sarà come prima, davvero? E tutte queste domande che ci siamo posti noi come artisti, come teatranti, stanno culminando in uno spettacolo. Uno spettacolo che chiaramente non parlerà direttamente di questo tema, però avrà a che fare con questo tema. Il teatro, l'abbiamo visto, è già cambiato, sono state tolte le sedi in platea, ad esempio. Dal punto di vista della recitazione, durante le prove, cosa è cambiato? Durante le prove, adesso, gli attori stanno lavorando chiaramente a distanza, rispettando tutte le norme. Noi abbiamo praticamente proseguito il nostro lavoro anche durante il momento più, diciamo, terribile. Abbiamo continuato a lavorare da remoto, chiaramente, con videochiamate tutti i giorni. Gli attori sono allenati, hanno fatto il proprio lavoro di ricerca. Io ho continuato con i miei collaboratori a studiare per i nuovi spettacoli e quindi diciamo che non si è mai interrotto del tutto il nostro lavoro. Abbiamo poi, in un'altra fase, smontato tutto quello che era d'ingombro nel nostro teatro per creare spazio agli attori ed ora, finalmente, possiamo lavorare anche in uno spazio più piccolo come il palco. Lavoriamo sul palco per poi lavorare nel bosco, quindi all'aperto e accogliere il pubblico all'interno di questo percorso che sarà per noi un nuovo percorso artistico. Si è interrotto quel percorso che ci portava in giro per il mondo con Moby Dick. Abbiamo, diciamo, perso più di 20 repliche in giro per il mondo, dal Sud America al Nord Europa, ma è tutto sospeso in realtà perché si riprenderà, riprenderemo il 5 settembre a Sarajevo con il Moby Dick e poi si sta definendo la tournée autunnale. Il distanziamento e quindi c'è l'impossibilità di avere una relazione fisica con i nostri colleghi e quindi c'è tutta una serie di nuove energie, relazioni da costruire, nuovi stimoli anche dei quali bisogna approfittare proprio perché questa nuova distanza crea delle relazioni nascoste anche, che non c'è stata la possibilità di costruirle prima. e c'è tutta un'attenzione tecnica che dobbiamo adottare, quindi una pulizia costante degli strumenti che utilizziamo e che poi ci passiamo, una sistemazione o un ordine molto più preciso nella disposizione dei camerini e la volontà però assolutamente di continuare a creare e continuare a produrre nuove situazioni per coinvolgere gli spettatori. Grazie